Guarda chi si trascita Chi ti faresti? Chi si trascita la nonna? No, io a mamma provo a cercare Onestolo che ho fatto Sto acciso, onestolo acciso C'è? Cioè io non lo so dove stiamo arrivando Ma di niente dal punto di vista che sta succedendo Cioè ti rendi conto? Ma stiamo facendo i video? Ma quando vedi i video, sai? Ma che cosa sono dei gammati? Stai a fare le cose, ok? Ma cosa stai facendo? Ma che cosa? Che cosa? Non mettere il cangopio! Cos'hai pensato per dare i sensi, capi? Stai a mettere la capista Ma 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 chi sei scemo? Veramente